Vittoria di rigore firmata da Tommaso Gabrielloni per una Iesina che si sblocca alla casella dei successi e dopo quattro pareggi coglie i tre punti. Nella giornata in cui la formazione di Amaulo riesce a non prendere gol e mostra un volto più convinto di un fidene guardingo. Nella curva a Leoncella gli Ultras di casa reclamano trasferte libere facendo riferimento al divieto di domenica scorsa a Civitanova e a quello della prossima giornata in quel di Marino. Subito alla partenza ci prova il fidene col colpo di testa di Sorrentino dopo 30 secondi che non inquadra lo specchio della porta. La Iesina si vede al quinto minuto quando Gabrielli gira alto il pallone in area di rigore e poi al settimo colpo di testa ancora sopra il montante da parte di Sebastianelli. I Leoncelli fanno la partita il fidene bada a non prenderle ma davanti si vede al ventiseiesimo calcio d'angolo palla che sfugge a Giovagnoli Fusaroli rovescia sopra la traversa. La Iesina è insidiosa alla mezz'ora bella la combinazione fra Tommaso ed Alessandro Gabrielloni con il primo spedito in area dal tacco del secondo. Bello il tocco di Tommy Gabrielloni Mangierini riesce a parare. Al 34esimo per il fidene tiro cross di Dominici Giovagnoli spara in due tempi. La Iesina ci riprova al 39esimo sul secondo palo è appostato Alessandro Gabrielloni colpo di testa con Mangierini attento a bloccare. Nei minuti di recupero del primo tempo opportunità per il fidene. Bello l'assist di Covelli, De Angelis tira dal limite, palla che termina fuori. Subito al ritorno in campo messaggio da parte della Curva Leoncella che prende le distanze dall'ex allenatore Gianluca Fenucci dopo il tornare a galla delle polemiche con la Iesina nel corso della settimana. In campo già al primo minuto episodio decisivo. Contatto fra Fusaroli e Stefanelli. L'arbitro indica il dischetto e ammonisce Fusaroli. L'assistente segnala il fuorigioco. Non ci sono più né il rigore né il giallo. Subito dopo al 48esimo mischia in aria degli ospiti. Stefanelli tenta la conclusione a rete. Palla che non inquadra lo specchio della porta. La partita si riaccende al 67esimo. Alessandro Gabrielloni è a terra sulla tre quarti ma Amaolo fa proseguire Sebastianelli. Cross di Sartori, colpo di testa di Stefanelli con palla sul fondo. Al 77esimo il rigore è quello buono. Punizione messa in aria dalla Iesina a contatto. Tafani Martorelli e questa volta il penalty c'è. Dal dischetto Tommaso Gabrielloni spiazza il portiere avversario. 1-0 Iesina. Ultimi minuti senza troppi sussulti ma nel recupero una occasione per parte. Al 92esimo per la Iesina tiro di strappini dal limite rimpallato dalla difesa avversaria. Al 95esimo ultimo brivido Fidene. Dal limite ci prova De Marco con la palla che sibila a fil di palo fuori dallo specchio della porta. Iesina che si tiene stretta la prima vittoria del suo campionato.